La personalità estremamente creativa di Elena Reggiani la si nota in ogni suo aspetto. Donna imprenditrice di successo, che ha a cuore la sua terra e si impegna per la sua costante valorizzazione. Noi l'abbiamo intervistata. Sono una persona estremamente creativa, anche se vengo dal mondo commerciale, perché ho iniziato con i genitori alla Reggiani S.p.A. più di 30 anni fa a seguire tutta la parte commerciale. Ero appunto il direttore e ho portato dei risultati non indifferenti. Non solo ho agito sul mercato italiano, ma ho sponsorizzato in toto il prodotto del nostro lanificio in tutto il mondo. E così abbiamo iniziato una storia importante, molto creativa, perché noi al di là del prodotto di Reggiani Boutique che vediamo in negozio, presentiamo negli showroom internazionali e a clienti di altissimo livello, conosciuti anche VIP, perché seguiamo molti red carpet, con i nostri abiti cerimonia e i nostri abiti da sera. A doccio sicuramente potete trovare invece i nostri capi per eccellenza, quindi più comodi, più adatti per tutti i giorni, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ho questa passione nella creatività che estendo poi un po' su tutto quello che mi contraddistingue, per quanto riguarda la protezione del territorio verso le persone, verso la mia comunità, perché è questo in cui credo. Io da sola non faccio niente, non posso operare da sola sul mio territorio se non ho un valido aiuto, se non ho delle persone che credono con me in quello che portiamo avanti. Siamo valsesiani da generazioni, ecco perché sostanzialmente abbiamo la valsesia nel DNA, pertanto la decisione intanto di avere le nostre aziende qua e di proteggere il lavoro qua, ma sostanzialmente perché abbiamo la valsesia nel cuore. Tutta la famiglia cerca in modo trasversale di occuparsi della valsesia. Mio fratello e mio papà hanno ripreso un po' il discorso dei pascoli con l'allevamento di bestiame, piuttosto che io ho aperto un ristorantino nel centro storico di Varallo, ma al di là delle attività c'è proprio un cuore valsesiano. Si potrebbe fare moltissimo, io personalmente avrei tantissime idee e cerco nel mio piccolo di mettere giù sempre dei progetti interessanti per poter aiutare questa nostra amatissima valle. Grazie a tutti.